due cose perché uno decida il 13 di agosto o c'è stato diciamo un litigio un'incomprensione chiamatela come vi pare e non ci risulta oppure è arrivata a qualche offerta allora se analizziamo le figure Antonio già conosce l'ambiente è già stato lì ha già fatto quel mestiere è un allenatore che incide immediatamente sui giocatori e quindi secondo me potrebbe essere diciamo la chiave di svolta secondo me Antonio potrebbe essere la chiave di svolta Luciano Spalletti è attualmente secondo me l'allenatore più quotato a livello internazionale nel senso che è uno che ha fatto grandissime cose forse Luciano ha più bisogno del campo quotidiano per fare le cose che vuole fare lui ma è talmente bravo che non c'è dubbio che farebbe benissimo stra bene anche in nazionale io francamente andrei a dire